Ciao vittoriani del mio piccolo macabro cuore e nonché attoroni del mio firmamento hollywoodiano, benvenuti in questo nuovo video. Giovedì di sabba senza streghe, anche questa settimana le streghe le abbiamo lasciate a casa perché non so se avete notato, ma questo morte di sul canale è uscito un video bello corposo in cui io, Elena Cornell e Sonia Causa ci siamo divertite a fare tutta un'indagine letteraria da Victor Frankenstein, l'eroe, anzi l'antieroe nato dalla penna di Mary Shelley, a Jeffrey Dahmer, un assassino realmente esistito, molto brutale, satico e necrofilo che ha diversi punti in comune con la creazione di Mary Shelley in tutta questa indagine criminologica e letteraria che vi invito caldamente ad andare a recuperare. Quindi capite bene dopo un video così pregno mi sono detto ok sto giovedì famo una cosa più sciale e più easy altrimenti esplodo. E cosa c'è di più rilassante del parlare di libri, letture e letteratura? Assolutamente niente, tranne lo stress che ci causa il pensiero di tutti i libri che vorremmo leggere e che avevamo il tempo fisico di fallo. Ma questo è un altro discorso, siamo qui per divertirci e non per deprimerci. Ma prima di andare avanti con il video che più o meno avete intuito di cosa parli visto il titolo che è lo spoiler dell'argomento, mi prendo due minuti per ringraziare delle persone meravigliose che mi hanno fatto dei regali meravigliosi. Tra quei pacchi che abbiamo visto insieme nell'ultimo wishlist decluttering ce n'è uno bellissimo che è di Rebecca, i tarocchi della Magical Forest che raga sono spettacolo ste carte. Voi lo sapete io amo il regno animale in tutte le sue forme e queste carte sono stupende. Rebecca non puoi capire quando le ho aperte ho urlato come una matta perché hanno questi occhioni dolcissimi, ma nello stesso tempo sono anche molto inquietanti. Per rendervi un'idea a fine video vi lascio un easter egg in cui ve le apro e le scopriamo e le esploriamo insieme. Vi ho già trovato una sistemazione nel mio altarino, già so come utilizzarle e come farci tutte quante le foto che poi vi metto su Instagram. Grazie di cuore per il sorriso che mi hai regalato, veramente, grazie, grazie, grazie. Ci sono tante persone a cui dà fastidio che io possa ringraziare pubblicamente, quindi sono sempre molto molto spiazzata su come gestire i regali che mi fate e se avete piacere insomma contattatemi senza farvi problemi, così ho modo anche io di scambiare due chiacchiere con voi e di ringraziarvi. Eh però me lo dovevate dire che Laurin era messo al contrario, porca miseria, mi sentivo infatti un po' un po' fiacca che qualcosa non andava. Un ringraziamento speciale a Jessica e Domar che ci hanno regalato Cimitero a Cattolico, guida romanzata del cimitero settecentesco di Roma. Io parlo in plurale perché i regali che fate li fate a noi, li fate al canale ma in realtà a tutti noi perché poi sono tutte cose che io utilizzo per creare contenuti, quindi parlo al plurale per questo, voi il regalo lo fate al canale, lo fate a me sì, però lo fate veramente a questo piccolo spazietto virtuale. Questa è una vera e propria guida ragazzi, guardate, step by step ti spiega la storia delle tombe, i sentieri del cimitero e tutto quello che c'è da sapere quando insomma volete fare una passeggiata in questo angolo che io trovo meraviglioso e senza tempo di Roma. Ovviamente io l'ho messo in wishlist perché vorrei tantissimo andare a fare un video, proprio una sorta di mini documentario di quelli miei poracci che vi presento qui su YouTube. Perché? Perché secondo me è una di quelle cose che deve essere presente su questo canale YouTube, visto che parla di letteratura romantica, letteratura gotica, un sacco di altre cose d'archettone che ci piacciono a noi. Il fatto è che non ci sono problemi se tu vai al cimitero a fare delle riprese personali, delle foto personali. Però nel momento stesso in cui io andrei a postare questi vlog su YouTube, che succede? Lo scopriremo solo scrivendo un'email al direttore e sentiamo un pochino che ci dice perché sarebbe bellissimo portare il cimitero cattolico di Roma su questi piccoli macabri schermi e ne approfitto non oltre per dirvi che Jessica ha un canale YouTube molto interessante, lei è una scrittrice, parla di scritture e tarocchi, un sacco di altre cose carine. Il suo link al canale YouTube lo trovate giù in descrizione. Scusate, parlo un po' di fretta, oggi c'è il criceto a mille, si è svegliato tutto voglioso della ora, beata a lui. Ringraziamo Alessandra che ci ha regalato guida al grottesco ragazzi, è stupendo, io me lo sono già sfogliato. Lo sapete, sono andata in fissa per queste edizioni della Odoia perché sono delle vere e proprie guide, vanno per argomenti e tu riesci a studiare, a capire, a scoprire tante di quelle cose che secondo me meritano ragazzi una miniserie a testa. Una miniserie sul grottesco, sulla letteratura gotica, su victoriana, che ne abbiamo anche quello grazie a Viola. Quindi Alessandra io ti ringrazio perché mi dai anche l'opportunità, premo, di imparare un sacco di cose. Secondo, di scoprirle e di portarle qui sul canale YouTube. Quindi questo regalo che tu fai a me ma in realtà lo fai a tutti noi e grazie, grazie, grazie di cuore. E spero anch'io un giorno di poterti abbracciare di persone e ringraziarti. Ultimo ma non meno importante, anzi importantissimo per il bigliettino che ci hai allegato ma anche per il motivo per il quale mi è stato regalato, io ringrazio Fabiola per il suo La cena di Pitagora, storia del vegetarianismo dall'antica Grecia ad internet. Il tuo bigliettino mi ha fatto piangere perché il fatto che tu creda in un progetto che sia legato all'animalismo a me ha fatto, tipo, a parte sentire un fortissimo calore dentro al macabro cuore, che dico che è macabro ma è attaccio al carattere di una mozzarella, ci sono tanti modi di fare attivismo e quelli che funzionano di più sono anche quelli che sono vicini alle corde di chi parla, di chi si muove. E il mio cuore batte per il creare contenuti, a me creare contenuti, scrivere video, studiare, piace da morire. Mi fa sentire viva e l'idea di fare questo anche per contribuire nelle mie possibilità, in quello che mi riesce meglio, in un argomento che mi sta così a cuore, ma così tanto a cuore che ero disposta addirittura ad aprire un secondo canale e a fare tanti contenuti che alla fine, tutto sommato, possono tranquillamente rientrare su questo canale. E il fatto, Fabiola, che tu abbia voluto contribuire mandandomi questo testo mi ha fatto rendere conto che dall'altra parte siete attivi, siete ricettivi, avete piacere comunque di andare a scandagliare insieme anche altri tipi di argomenti, oltre a quelli classici che sono un pochino i pilastri del canale YouTube. E in questo caso posso dire che io ringrazio voi, vi ringrazio perché se ci siete a me fa piacere, perché mi sembra davvero di contribuire nel mio piccolo, a fare quel minimo che io riesco e posso fare, perché io da sola, certo, il sistema non lo posso buttare giù. Però, però, secondo me, se ciascuno di noi nel piccolo impara quello che può fare con le sue piccole forze, diventiamo davvero una forza. Giusto, Jules dalla Scozia, la mia amica super attivista e super vegana che ospiterò qui sul canale YouTube, abbiamo già registrato altri due Ari and Jules. Quindi, ragazzi, preparatevi che portiamo l'animalismo su questi piccoli magabri schermi, perché ci tengo da morire, perciò, veramente, grazie per esserci, ragazzi. Ordunque, ragazzi, ora ho un sacco di nuovi libri da sistemare nella libreria ed entriamo un po' nel cuore di questo video, ovvero, che tipo di persone siamo in base a come sistemiamo la libreria? Questo ce lo dice Giorgia Danesin, la psicologa psicoterapeuta, che ha scritto l'articolo dal quale io traggo tutto quanto il video che state per vedere. Giorgia è una mia carissima amica, è una dottoressa, è una psicoterapeuta, ha questo sito dove scrive articoli che leghino un pochino la sua passione e il suo mestiere da psicoterapeuta e da psicologa con il suo grandissimo amore per la lettura e la letteratura. Io, lei e Martina, Giorgia e Martina, le amiche di Latina, avevamo un gruppo Whatsapp dove in genere ci disperiamo e ci consoliamo insieme, perché nella vita ci sono troppi libri che meriterebbero essere letti, ma giustamente noi siamo noi con i nostri tempi, quindi non ci disperiamo, piuttosto concentriamoci sulle cose belle. Ovviamente l'argomento del dimmi come sistemi la libreria ti ti do chi sei, non è originale, è una cosa che gira sul web da anni, ci sono un sacco di articoli, un sacco di post, però a Giorgia abbiamo voluto fare una cosa insieme, una sorta di collaborazione. Io gli ho chiesto di preparare un articolo per il suo sito che avrei poi utilizzato come copione, tra virgolette, per questo video insieme. Un po' per cazzeggiare e fare due chiacchiere come stiamo facendo, un po' pure perché Giorgia, essendo psicologa e psicoterapeuta, ha trovato una maniera molto carina di parlare della sistemazione dei libri associata ad un disturbo, del quale poi ci va a consigliare anche un libro che potremmo leggere. Tutto con toni molto ironici, tranquilli, se fosse possibile venire a casa mia e faremmo salotto tipo Sala da De Bonardi. Io pensavo di essere sicura, di sapere più o meno che tipo di persona fossi, perché ho sempre riordinato la libreria in base alla casa editrice. Ma senza che vi sto anticipa troppe cose, secondo me famo prima andare a leggere l'articolo di Giorgia e cercare di capire che tipo di persone siamo a seconda di come sistemiamo la nostra libreria. Siamo pronti per giocare insieme? Via! Ordini la libreria per genere letterario? Ti piace avere tutti i thriller da una parte, i fantasy dall'altra e tutti i romanzi rosa da un'altra parte ancora? Allora sei proprio come il calcio in culo! Oh già! Ah ma tu intendi la giostra, i calci in culo, quelli che fanno su e giù, sì a Roma si chiamano calci in culo raga! Pensando a questa modalità mi immagino una persona dai diversi sbalzi d'umore, che sceglie il titolo da leggere in base a come sta in quel momento, in base al periodo di vita che sta vivendo. Mi immagino una persona che abbia un'altalenanza emozionale, che sfoga nella lettura interessandosi a diversi generi. Se dovessi associare un disturbo a questa caratteristica, quando patologica, allora direi il disturbo bipolare, disturbo emotivo caratterizzato dall'alternarsi di episodi depressivi maggiori, tristezza profonda ed episodi maniacali, gioia eccessiva. Eccome raga! E' come! Un titolo che posso consigliare, anche se non tratta proprio del disturbo bipolare, ma della depressione, che comunque è un disturbo emotivo, è Veronica decide di morire di Paolo Coelio. Voi lo avete letto? Ma soprattutto voi siete di quelle persone che ordinano i libri in base al genere? Io vi devo dire una cosa, Mi è successo nella seconda libreria, non questa, perché voi vedete questa, che è la libreria dei video tutta bellina, tutta ordinata, io ne ho un'altra, ragazzi, che è il grande, il doppio di questa. Ed è stragarica, è quella dove c'è Montevideo, che nessuno di questi mi cascano tutti in testa quei libri, mi esplode la libreria e io morirò gloriosamente alla mia postazione. E' così che muore Arianna Bonardi, seppellita da libri non letti e alla sua postazione computer, dove spendeva 12 ore della sua vita. Poi dici perché so palida e non più due spicci dei sole. Tornando a tomba, dicevo, nella mia seconda libreria ho scoperto che alcune cose le ho ordinate per genere. Ora, io sono una di quelle persone che li ordina per casa editrice, ma ve lo racconto quando arriviamo poi al mio, al mio, come si dice, alla mia caratteristica. Però ad esempio, nella libreria bianca, perché si chiama libreria bianca, ho fatto lo scaffale dei saggi vittoriani, che poi tra l'altro non so più domente quelli nuovi, perché non è che non sono scaffali lunghi come questi e larghi come questi, sono più piccolini, quindi l'ho già riempito, considerando che ho messi davanti ai Chuck che vanno dal 2000 al 2012, tipo, vabbè raga, comunque ho fatto lo scaffale vittoriano. Ed è una cosa che io non ho mai fatto, io ho tutto quanto sparso perché mi ricordo esattamente le case editrici dei vari libri, quindi poi me li vado a pescare. Ed è stato strano, però anche molto bello, soltanto che l'altro giorno sono andata in blue screen, perché cercavo il saggio di Massimo Centini su Il killer delle prostitute, il saggio su Jack lo squartatore, e io lo sono andata a cercare dritto, 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 in mezzo ai libri della Yume Book, perché io li ho ordino in casa editrice, e quello non c'è stata, raga. Ho cominciato a cercarlo per tutta casa, perché non ho pensato che potesse stare nello scaffale vittoriano, perché non ci ho pensato che l'avevo messo lì, talmente abituata, comunque, andà colpo sicuro con le case editrici, che poi io vi racconto tutte queste cose pensando che possano interessarvi, in realtà non frega niente a nessuno magari, però era così per abbellire il video con i miei sfigatissimi aneddoti di vita. Ordini la libreria completamente a cazzo, è caso, è caso, scusa Joe, sì, sì, è scritto caso, è scritto caso. Non pensi a nessuna categorizzazione precisa? Le persone, quando vedono la tua libreria, sono convinte che non ci si capisca niente, ma a te riesci a trovare tutto come se fosse la libreria della bella e la bestia. Mortacci de Bell, mortacci, cioè voglio avere io quella cacchio di libreria. Ci sono due categorie di persone, quelle che vorrebbero essere belle nella bella e la bestia quando gli regala la biblioteca e quelle che mettono. E me sposo pure la bestia, perché per me il principio era più figo quando era bestia. Comunque, se ordini la tua libreria a caso, sei una persona che fa del disordine il tuo stile di vita. Pensando a qualcuno che organizza la libreria senza un ordine preciso, anzi, mettendo i titoli un po' a caso, il richiamo più forte che ho è il disordine e la disorganizzazione. Il disturbo schizofrenico è quello che si può associare al disordine. Ma è scida molto romana sta cita. Il manuale dei disturbi psichiatrici dice che il disturbo schizofrenico, oltre a deliri e allucinazioni e comportamento anormale, è caratterizzato dal, cito, Il pensiero disorganizzato può passare da un argomento all'altro. Le risposte alle domande possono essere correlate in modo marginale o completamente non correlate. Raramente però l'eloquio può essere così gravemente disorganizzato da essere quasi incomprensibile, che assomigliare alla fascia ricettiva nella sua disorganizzazione linguistica. A tal riguardo, rimanendo in tema, consiglio il romanzo L'esercizio di Chiara Petrucci, che racconta la storia di una ragazza schizofrenica ed è una lettura intensa e molto esplicativa del disturbo. Questo me lo metto in wishlist perché mi potrebbe interessare. Vi rispecchiate in questa categoria? Quindi scegliamo un hashtag. Per questa categoria o siamo team la bella e la bestia, anche se quella a biblioteca mi ricordo che era molto ordinata, o siamo team a cazzo di cane, alla Boris, come direbbero Nefferretti. Oppure hashtag a genitali di cane, che è sicuramente un pochino più di classe. Ad esempio, io non potrei mai rientrare in questa categoria. Sì, sono la persona più disordinata al mondo, ma non potrei mai mettere i libri a caso, perché anche se non hanno argomento, anche se non li metto per casa editrice, comunque li dovrei ordinare per grandezze uguali che piano piano poi discendono verso il basso, verso l'inferno. Sono un po' maniaca su questo punto di vista. Infatti, oh, ma guarda caso, il prossimo! Impazzisci nel vedere la libreria cromaticamente perfetta? E non parlo di unire i rossi, i blu, i verdi, eccetera, ma parlo proprio di ordinare il singolo colore in base alla sua gradazione. O ancora, ti piace davvero tanto ordinare i volumi in base alla casa editrice? E gli stessi ordinarli per colore? Eccomi, sono una maniaca del controllo! Ma giusto nelle stronzate, nelle cose serie, proprio zero! Eccomi ragazzi, io amo, adoro sistemare i libri per casa editrice, non tanto per colore, proprio per casa editrice, mi piace averli tutti uguali, tutti vicini, e quanto merode, regà, quanto merode quando cambiano le edizioni, quanto merode! Abbiamo un palese esempio proprio qua in libreria, Black Friars! Eccoli qua, è la saga di Virginia de Winter, io amo follemente! Questo, questo perché non c'è scritto Black Friars come questi altri? Perché c'è scritto solo l'ordine della croce? Perché? Perché è una cosa che a me dà profondamente fastidio. Non potete capire quanto rosicato, non potete capire nel vederli qua a questo gli manca Black Friars, io vado ai matti! Oppure, un'altra cosa che mi ha mandato in bestia da ragazzina, la trilogia di Philip Pullman... La saga di questo oscure materie di Philip Pullman, io ho i primi due nell'edizione Salani, Il terzo è la Salani di Dore, ma rilegato, perché mio padre me lo regalò che era appena uscito, quindi a me dà un fastidio immenso avere i paperback e avere il rilegato, non potete capire, cioè li amo follemente, ci sono affezionata, questo me lo regalò addirittura a mio padre, alla libreria cartoleria di Decima, anzi Decima A, come direbbe la nostra Matilda con l'accento sulla A, però regà me dà un fastidio, non potete capire quanto me dà fastidio. Un'altra cosa che mi manda in bestia, la Thea 2 mi piaceva da morire, perché aveva questo storico bollino bianco, lo vedete? Cioè io ci sono cresciuta con l'edizione Thea. Poi una certa, hanno tolto questo bollino e hanno messo questo qui, che praticamente fa angolo qui, e per me è una cosa inconcepibile, io ho tutti i Thea qua sotto, tutti ordinati, poi una certa, una certa, una certa cambiano, non ci sta più il bollino, e a me sta cosa, a me sta cosa mi manda i matti, regà che problemi c'ho? Sì aspetta, ce l'ha detto Giorgia, sono una maniaca del controllo, ma solo per quanto riguarda il riordinare libri, perché per il resto la mia vita va completamente a scatafascio, altro che controllo. Il disturbo ossessivo compulsivo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni e o compulsioni. Le ossessioni sono pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e persistenti che sono vissute come indesiderate, mentre le compulsioni sono comportamenti o azioni mentali ripetitive che un individuo si sente obbligato a compiere in risposta ad un'ossessione o secondo regole che devono essere applicate rigidamente. Quindi giustamente Giorgia, sempre con tono ironico e per farci due chiacchiere, ha voluto associare il maniaco del controllo al disturbo ossessivo compulsivo. Per questo tipo di disturbo, proprio per la sua precisione, accuratezza e la ricerca della perfezione, Giorgia ci suggerisce il romanzo dal quale hanno tratto il film «Una stanza piena di gente» di Daniel Keyes, che ha come protagonista Billy Milligan, persona affetta da disturbo di identità multiple. Gli ne sono state riconosciute ben 23. Secondo me è una lettura molto interessante e finisce anche questo nella mia wishlist. Voi vi disperate che io vi consiglio i libri? Perché io non sto disperata con tutti quelli che mi consigliate pure voi? Ma voi perché vedete solo la wishlist pubblica? Perché io ho quella privata che ancora dobbiamo finire svuota insieme, regami via male solo a pensarci. Vi prego fatemi sapere se ci sono altri maniaci del controllo della libreria, non me fate senti sola, ditemi che c'è sta qualcun altro a cui gli avrebbe veramente dato fastidio che a Black Friars gli manca a Black Friars qui? O gli da fastidio avere libri diversi, in edizioni diverse, o avere edizioni diverse di una stessa saga, o in qualsiasi altra cosa mi raccomando scrivetemelo giù nei commenti perché ci terrei tantissimo a leggere le vostre risposte. Ritieni che l'unico modo per ordinare la libreria sia secondo un ordine che parli di te? Magari mettendo in primo piano quelli che ti rispecchiano di più, che ti rappresentino al meglio. E pensi che questo sia l'unico modo per organizzare una libreria? L'unico, perfetto e soprattutto inimitabile? Allora sei ovviamente un bel narciso, sei un gaston! Nell'uso comune l'aggettivo narcisista rimanda ad una persona incentrata su se stessa, con una modalità egoistica di affrontare la vita. E come potrebbe un lettore con queste caratteristiche non ordinare la sua libreria in maniera personalmente creativa? E io forse ho un po' di tratti narcisistici, cioè nel senso effettivamente io in questa libreria ho messo tutte le cose che mi rappresentino in un certo senso. Non a caso in questo scaffale ho messo di Harry Potter, ho messo di Jack Friars, ho messo tutte le edizioni illustrate del Signore degli Anelli, perché comunque ci tengo che si vedano in video, sono stati dei libri per me importantissimi, qua abbiamo tutta roba d'antropologia, stregoneria e quant'altro, ed è, regà, questo è un quarto della roba che c'ho, un quarto, sta tutto nella seconda libreria, perché qua regà mi casca tutto in testa. Comunque sì, è vero che mi piace ordinarli per case editrici, però qua ci sono tutti quanti i classici e le biografie, e quindi, cioè, una parte di me si rispettia anche nella descrizione del narcisista. Sono narcisa, regà, che dovemo fa? È una modalità di riordinare la libreria unica nel suo genere ed ovviamente, agli occhi del lettore di riferimento, perfetta ed inimitabile. Il manuale diagnostico ci dice invece che il disturbo narcisistico di personalità è, testualmente, un pattern pervasivo di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia, ed è presente in svariati contesti. E su questo Giorgia ci consiglia, ovviamente, il narciso della letteratura per eccellenza, ovvero il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. E leggetevelo, ragazzi, perché probabilmente il signorino Gray, qui, il nostro amico Dorian, sarà ospite su questi piccoli macabri schermi. Dici, popolo in persona? No, ovviamente, cioè, ancora non ho la capacità di resuscitare i morti. E anche se ce l'avessi, state tranquilli, che non andrei a resuscitare Dorian Gray. Io resusciterei Edmond Dantes, che è la mia crush letteraria per eccellenza. Gli chiederei, tipo, di sposarmi, umilierei, gliela darei su un vassoio d'argento. Ecco, l'ho detto pubblicamente. Scusate, voi se poteste resuscitare qualcuno, qualche personaggio della letteratura, che magari non è manco mai esistito, quindi manco a dico potremo resuscitare, però, insomma, se siamo capiti. Chi vorreste far rivivere? Scusate, so curiosa, non me lo dovete scrivere giù nei commenti. E se sei un po' narciso nel sistemare la tua libreria, sei Tim Gaston. Se ti va, fammelo sapere giù nei commenti, così poi ci confrontiamo. Sei una persona che cambia continuamente l'ordine della propria libreria e che ogni volta non ti soddisfa? Non riesci a controllare la tua voglia irrefrenabile di spostare un volume di qua e un altro di là, insomma, fa un sacco dei casini perché non sei mai soddisfatto? Beh, caro mio bel lettore, la confusione fa parte di te. Mi immagino una persona con queste caratteristiche che quando emerge la rabbia mette in primo piano i thriller. Quando invece emerge la gioia, ecco che evidenzia e prediligge titoli romantici. Io quando so gioiosa prediligo, esagito antropologia stregone lì, che problemi c'ho? Aiuto! Una debilitante instabilità emozionale e relazionale ed un'impulsività che compromette la quotidianità della persona sono le caratteristiche chiave del disturbo borderline di personalità. La persona con una diagnosi del genere tende a manifestare le proprie emozioni in maniere estremamente intense e poi cambiare repentinamente ed in modo improvviso. Tipici sono, ad esempio, gli scoppi d'ira. Quelli che mi piana a me quando Cooper me strattona come matto visto che pesa almeno 10 chili più di me. Sì, sì, sto a parlare di te, è inutile che me guardi così con quegli occhioni, che mi sbatti così, povero Oliver Twist. Ah, non lo sapete? Charles Dickens si è ispirato a Cooper per scrivere Oliver Twist, soprattutto nei momenti dei pasti. Per questo disturbo non posso che consigliare una delle serie tv più belle che abbia mai visto negli ultimi tempi, ovvero Crazy Ex Girlfriend. Ma non voglio dirti nulla di quest'opera, non vuole fare spoiler, ma tanto Giorgia tranquilla. Con i miei tempi biblici da lumaga romana questa la comincerò a vedere fra tre anni. Sei anche tu un lettore confuso, talmente confuso da colpirsi da solo? Sì, con tutti i libri qua in testa. Faccelo sapere giù nei commenti, se sei team confusione ti potrai confrontare con tante altre persone che soffrono del tuo stesso stato confusionale del distribuire titoli nella libreria, che è un pochino quello che faccio io quando sono disperata e non so più dove mettere i libri, non ho più spazio, io butto tutto in cacciara. L'importante però è che sia in ordine, in ordine, come si dice, decrescente, dal più grande al più piccolo. Poi non fa niente se gli argomenti so thriller, so saggi, so romanzi rosa. Se non sbaglio ho messo tre metri sopra il cielo tra Shakespeare di mia madre e tipo un libro di Platone, quindi andate tranquilli, regà, sentitevi a casa con me. Bene, pittoriani del mio piccolo macabro cuore, anche per oggi questo giovedì di sabba senza streghe mi ha dedicato comunque a libri e librerie termina qui. Io spero di avervi strappato un sorriso, spero di aver valorizzato comunque anche il lavoro di Giorgia che è stato molto simpatico, lei ci ha tenuto tantissimo a dirmi che comunque voleva essere tutto quanto con un tono ironico al che le ho dovuto spiegare, ma guardami in faccia, cioè... L'intento di tutto ovviamente è strapparvi una risata, consigliarvi dei libri e quelli di Giorgia sono veramente molto interessanti e ovviamente vi voglio sapere come riordinate la vostra libreria. Ci sono sicuramente un sacco di altri criteri per sistemare la libreria, se non vi sentite in nessuna di queste raccontateci comunque la vostra esperienza aggiungere i commenti, così possiamo tutti quanti rispondere e confrontarci e farci due risate. Raccontatemi peggio aneddoti, cosa vi dà più fastidio, cosa amate della vostra libreria. Alla fine, cioè, le mie librerie sono la mia vita, non sto scherzando, cioè io sarei una di quelle che se crollasse il palazzo mi andrei tipo a rovistare tra le macerie tutti quanti i miei libri, cioè, è un'immagine strana da raccontare, però a me ogni tanto mi capita di sognare una cosa del genere, tipo, che ne so, c'è il terremoto, non muore nessuno, però io mi devo andare comunque a scavare, a ritrovare tutti quanti i miei oggetti, i miei libri. Oppure mi sento come la vecchietta nel romanzo di Fahrenheit 451, è Fahrenheit 451, scusate? Sì, è Fahrenheit 451, ogni tanto do i numeri. C'è quella signora che si lascia bruciare assieme ai suoi libri, assieme alla sua casa, io ho quell'immagine marchiata nel cuore, perché probabilmente finirei esattamente così, mi faccio uccidere piuttosto che cedere. Le mie due librerie che ho tirato su negli anni e che raccontano e parlano di me. E fondamentalmente era questo che io volevo raccontare, cazzeggiando e comunque facendoci due risate insieme, ovvero l'amore con il quale curo, compro... Oggi è giovedì, i bambini si possono far forno. Ah no, no, perché poi mi demonetizzano i video, per carità di Dio. E sono sicura che dall'altra parte capirete questo grandissimo amore che ho per la libreria, che per me il libro non è solo un oggetto, lo dico sempre, per me il libro è vita. Leggere è una mia grande passione, non smetterò mai di portarla qui sul canale YouTube e di farci due risate insieme, fondamentalmente era quello che volevo dire in conclusione del tutto. E nulla, io ringrazio Giorgia per aver collaborato e aver voluto partecipare con questo articolo, che trovate linkato giù in descrizione. Dai a Giorgia che se tutto va bene riusciamo a annaccio a prendere di nuovo un cappuccino di soia insieme. Ovviamente Giorgi, ti aspettiamo giù nei commenti, vogliamo sapere anche tu come riordini la tua libreria. E tutti voi ragazzi, mi raccomando, partecipate liberamente giù nei commenti, che siete la mia gioia più grande e adoro veramente venirvi a leggere ogni volta quando pubblico un video. Per tutti i nuovi che sono capitati qui per caso, vi ringrazio della pazienza, insomma potete iscrivervi al canale, attivare la campanella, rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti che sono appunto molto disordinati, ma ci stanno più o meno sempre. Con la speranza di ritrovarvi su questi piccoli macabri schermi, vi rinnovo l'appuntamento al prossimo video. Un bacio, ciao ragazzi! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.